Nel 2019 sul canale YouTube è stato bannato il video soffiata dal Pentagono, vaccino progettato per modificare il comportamento umano, FUNVAX, che trovate su indice alfabetico, e mi sono chiesto per quale motivo hanno deciso, come altre volte quando si parla di anima, di bannarlo, nonostante nei commenti si denigrava questa possibilità. Grazie alle indicazioni di un amico ho scaricato il documento che è stato desecretato il 10 settembre del 2003, oggetto analisi e valutazione del processo di Gateway 9 giugno 1983. Nella descrizione del video trovate il link per scaricare direttamente il documento dalla pagina web della CIA. Ha qualcosa a che fare con quel video? Il documento desecretato. Oggetto. Analisi e valutazione del processo di Gateway 9 giugno 1983. Al comandante del gruppo operativo dell'esercito americano Fort Meade MD 20755. 1. Mi ha incaricato di fornire una valutazione della Gateway Experience in termini della sua meccanica e la massima praticità. Come ho deciso di adempiere a quel compito, divenne ben presto chiaro che al fine di valutare la validità e la praticità del processo avevo bisogno di fare notevole ricerca ed analisi di supporto per comprendere appieno come e perché il processo funzioni. Francamente, signore, si è rivelato un affare estremamente coinvolgente e difficile. Inizialmente, sulla base delle conversazioni con un medico che ha seguito con me la formazione Gateway, ho fatto ricorso ai modelli biomedici sviluppati da Eczak-Bentow per ottenere informazioni riguardanti gli aspetti fisici del processo. Poi ho ritenuto necessario approfondire varie fonti per informazioni riguardanti la meccanica quantistica, per poter descrivere la natura e il funzionamento della coscienza umana. Dovevo essere in grado di costruire un modello scientificamente valido e ragionevolmente lucido di come funziona la coscienza sotto l'influenza della tecnica di sincronizzazione dell'emisfero cerebrale impiegato da Gateway. Fatto ciò, il passo successivo prevedeva il ricorso alla teoria fisica per spiegare il carattere della dimensione spazio-temporale e dei mezzi, mediante il quale la coscienza umana espansa la trascende nel raggiungimento degli obiettivi di Gateway. Alla fine ho trovato di nuovo necessario usare la fisica per portare tutto il fenomeno degli stati extra-corporei nel linguaggio della scienza fisica, per rimuovere lo stigma delle sue connotazioni occulte e metterlo in un quadro di riferimento adatto ad una valutazione oggettiva. 2. Ho iniziato la narrazione delineando brevemente i fattori biomedici fondamentali che interessano tecniche correlate come l'ipnosi, il biofeedback, aperte le virgolette nota del traduttore, il biofeedback è un processo che permette ad un individuo di imparare come cambiare l'attività fisiologica allo scopo di migliorare la propria salute e le proprie prestazioni, chiuse le virgolette, e la meditazione trascendentale in modo che i loro obiettivi e le modalità di funzionamento possano essere confrontate con la mente del lettore con l'esperienza del getaway come modello del suo supporto meccanico che è stato sviluppato. Inoltre quel materiale introduttivo è utile al sostegno delle conclusioni del documento. Indico che a volte queste tecniche sono correlate e possono fornire utili punti d'ingresso per accelerare il movimento dell'esperienza del getaway. 3. Niels Bohr, il famoso fisico, una volta ha risposto alle lamentelle di suo figlio sulla natura ottusa di certi concetti in fisica dicendo, non stai pensando, sei semplicemente logico. La fisica della coscienza umana alterata si occupa di alcune concettualizzazioni che non sono facilmente afferrabili o visualizzate esclusivamente nel contesto del pensiero lineare ordinario del cervello sinistro. Quindi per prendere in prestito il modo di espressione del dottor Bohr, parti di questo articolo richiederanno non solo la logica ma un tocco di intuizione intuitiva del cervello destro per ottenere una comprensione completa e confortevole dei concetti coinvolti. Tuttavia, una volta fatto, sono fiducioso che la loro costruzione e l'applicazione resisteranno alla prova della critica razionale. 4. Paradossalmente, dopo essermi spinto così tanto per evitare di cercare di esprimere giudizi basati su un quadro di riferimento occulto o dogmatico, alla fine ho ritenuto necessario tornare, almeno brevemente, sulla questione dell'impatto dell'esperienza getaway su sistemi di credo comuni. L'ho fatto perché, sebbene fosse essenziale evitare di tentare di fare una valutazione nel contesto di tali sistemi, ho ritenuto necessario, dopo aver completato l'analisi, sottolineare che le conclusioni che ne derivano non violano in alcun modo il mainstream fondamentale di sistemi di credenze orientali o d'occidentali. A meno che quel punto non sia chiaramente stabilito, esiste il pericolo che alcune persone rifiuteranno l'intero concetto di getaway experience nell'errata convinzione che sia contraddittorio ed è quindi estraneo a tutto ciò che ritengono giusto e vero. 5. Questo studio non vuole certo essere l'ultima parola sull'argomento, ma mi auguro che la validità della sua struttura di base e dei concetti fondamentali su cui si basa lo rendano un'utile guida per un altro personale USA INCOM, comando di intelligence e sicurezza dell'esercito degli Stati Uniti, che è tenuto a seguire il corso di formazione su getaway o lavora con i materiali di getaway. 6. Wayne M. McDonald Non vado a tradurre tutto il documento, ma le parti interessanti, anche con qualche sorpresa. Vi ricordo che nella descrizione trovate il link per scaricare il documento quasi completo. L'esperienza del getaway, sincronizzazione dell'emisfero cerebrale in prospettiva. 1. Introduzione Per descrivere la tecnica del Monroe Institute per il raggiungimento di stati alterati di coscienza, l'esperienza getaway, che coinvolgono la sincronizzazione dell'emisfero cerebrale o hemi-sync, il modo più efficace per iniziare è delineare brevemente i meccanismi di base che stanno alla base del funzionamento di metodi come l'ipnosi, la meditazione trascendentale e il biofeedback. 2. Ipnosi Secondo le teorie dello psicologo Ronald Stone e i modelli di ingegneria biomedica di Istrek Benthoff, l'ipnosi è fondamentalmente una tecnica che consente l'acquisizione dell'accesso diretto alla corteccia motoria sensoriale e ai centri di piacere del lato destro del cervello umano a seguito del disimpegno riuscito della funzione di screening dello stimolo dell'emisfero sinistro del cervello. L'emisfero sinistro del cervello è la componente autocognitiva, verbale e di ragionamento lineare della mente. Svolge la funzione di schermare gli stimoli in arrivo classificando, valutando e assegnando un significato prima di consentire il passaggio all'emisfero destro della mente. L'emisfero destro, che funge da componente non critica, olistica, non verbale, sembra accettare senza alcun dubbio ciò che l'emisfero sinistro gli passa. Di conseguenza, se l'emisfero sinistro può essere distratto, gli stimoli esterni che includono suggestioni ipnotiche possono passare incontrastati nell'emisfero destro. Sia la corteccia sensoriale che quella motoria della porzione cerebrale destra del cervello contengono una sequenza di punti, nota come homunculus, che corrisponde a punti del corpo vedi figura 1. Questo aspetto diventerà significativo nel contesto del processo del getaway, quando verrà prestata attenzione all'esame del modo in cui l'ipnosi può essere utilizzata per accelerare il progresso nelle prime fasi dell'esperienza del getaway. 3. Meditazione trascendentale. D'altra parte, la meditazione trascendentale funziona in modo nettamente diverso. In questa tecnica, un'intensa e protratta concentrazione concentrata sul processo di estrazione di energia dal midollo spinale si traduce alla fine in quella che sembra essere la creazione di onde stazionari e acustiche nei ventricoli cerebrali che vengono poi condotte alla materia grigia nella corteccia cerebrale sul lato destro del cervello. Il modello biomedico di Benthoff, come descritto in un libro di Lee Sannella intitolato Psicosi Kundalini o Trascendenza, afferma che le onde acustiche stazionarie sono il risultato del ritmo alterato dei toni cardiaci causati da una pratica prolungata della meditazione e che instaurano vibrazioni simpatiche. Inoltre, secondo Benthoff, gli stati di beatitudine descritti da coloro i cui sintomi di Kundalini hanno completato l'intero ciclo lungo gli emisferi possono essere spiegati come un'autostimolazione dei centri del piacere nel cervello causata dalla circolazione di una corrente lungo la corteccia sensoriale. Benthoff afferma che l'esposizione a vibrazioni meccaniche o acustiche nella gamma di 4-7 Hz per periodi prolungati possono ottenere lo stesso effetto. Osserva inoltre che l'effetto cumulativo di queste vibrazioni può essere in grado di innescare una sequenza fisio-kundalini spontanea in persone suscettibili che hanno un sistema nervoso particolarmente sensibile. 4. Biofeedback Il biofeedback è in qualche modo unico in quanto impiega effettivamente i poteri autocognitivi dell'emisfero sinistro per accedere a tali aree del cervello destro come le cortecce cerebrali, motorie e sensoriali inferiori e vari centri del dolore o del piacere. Invece di sopprimere l'emisfero sinistro come si fa nell'ipnosi o in gran parte aggerarlo e ignorarlo come si fa in meditazione trascendentale, il biofeedback insegna all'emisfero sinistro prima a visualizzare il risultato desiderato e poi a riconoscere i sentimenti associati all'esperienza di accesso riuscito dall'emisfero destro allo specifico cervello inferiore, corteccia, dolore o piacere o altre aree nel modo necessario per produrre il risultato desiderato. Vengono utilizzati speciali dispositivi di autocontrollo come il termometro digitale per informare il cervello sinistro quando riesce a incastrare l'emisfero destro per accedere all'area appropriata. Una volta fatto ciò, il cervello sinistro può quindi istruire ripetutamente il cervello destro e ristabilire i percorsi coinvolti in modo da produrre le stesse misure esterne e oggettive di successo. In questo modo i percorsi vengono rafforzati ed enfatizzati a tal punto che la coscienza del cervello sinistro è in grado di accedere alle aree appropriate del cervello destro utilizzando una modalità cosciente e di domanda. Ad esempio, se il soggetto desidera aumentare la circolazione nella gamba sinistra per accelerare la guarigione, può concentrarsi con il cervello sinistro per ottenere quel risultato monitorando attentamente un termometro digitale collegato alla gamba sinistra. Quando lo sforzo concentrato inizia ad avere successo, il termometro digitale registrerà un aumento della temperatura della gamba sinistra. A quel punto il soggetto può associare mentalmente emisfero sinistro, le sensazioni vissute con il risultato ottenuto e può iniziare a sottolineare attraverso il richiamo della memoria lo stesso processo per provocarne il rafforzamento per affermazione e ripetizione. In questo modo il dolore può essere bloccato, la guarigione può essere migliorata, i tumori maligni possono essere apparentemente soppressi e infine distrutti, i centri del piacere del corpo possono essere stimolati e si possono ottenere una varietà di risultati fisiologici specifici. Inoltre il biofeedback può essere utilizzato per accelerare notevolmente il raggiungimento di stati meditativi profondi, in particolare per i principianti che non hanno esperienza nelle tecniche meditative e il cui progresso in tale metodologia è migliorato attraverso una visualizzazione efficace e un'affermazione esterna e oggettiva. La visualizzazione del modello delle onde cerebrali del soggetto su un tubo a raggi catodici si è rivelata un mezzo convalidato in laboratorio mediante il quale i soggetti possono imparare rapidamente a collocarsi in stati profondamente rilassati, caratterizzati dal tipo di quiete dalla singolarità della concentrazione mentale associata alla meditazione avanzata. 5. Getaway e Hemisync Fondamentalmente la Getaway Experience è un sistema di allenamento progettato per portare maggiore forza, concentrazione e coerenza all'ampiezza e alla frequenza dell'emissione delle onde cerebrali tra gli emisferi sinistro e destro, in modo da alterare la coscienza spostandola al di fuori della sfera fisica, in modo da evadere infine anche le restrizioni di tempo e di spazio. Il partecipante ottiene l'accesso ai vari livelli di conoscenza intuitiva che offre l'universo. Ciò che differenzia la Getaway Experience dalle forme di meditazione è il suo uso della tecnica Hemisync, che è in definitiva in una monografia della formatrice del Moro Institute Melissa Jagger come uno stato di coscienza definito quando i modelli E e G di entrambi gli emisferi sono simultaneamente uguali in ampiezza e frequenza. Un soggetto con 20 anni di formazione nella meditazione Zen potrebbe stabilire costantemente Hemisync a piacimento, sostenendolo per oltre 15 minuti. Il dottor Stuart Twemlov, psichiatra e ricercatore associato del Moro Institute, riferisce che, nei nostri studi, sull'effetto del sistema di nastri Monro e sulle onde cerebrali, abbiamo scoperto che i nastri incoraggiano la focalizzazione dell'energia cerebrale. Può essere misurata come con una lampadina in Watt, in una banda di frequenza sempre più stretta. Questa focalizzazione dell'energia non è dissimile dal concetto yoga. 6. Lampada contro laser. 7. Risposte sulle frequenze ascoltate. Si legge che producono onde Theta e mi viene in mente la guarigione attraverso la tecnica del Theta Healing. 8. Ruolo della risonanza. Lo yoga, lo Zen o la meditazione trascendentale, se praticati abbastanza a lungo, produrranno un cambiamento nella frequenza del suono con cui il cuore umano risuona in tutto il corpo. Bentov descrive il ruolo svolto dall'eco della biforcazione come segue. Quando il ventricolo sinistro del cuore spelle il sangue, la orta, essendo elastica, si gonfia appena oltre la valvola e fa viaggiare un impulso di pressione lungo la orta. Quando la pressione del pulso raggiunge la biforcazione nel basso addome, dove la orta si biforca in due per entrare nelle gambe, parte del pulso pressorio rimbalza ed inizia a risalire la orta. Se nel frattempo il cuore spelle più sangue, si verifica un nuovo impulso di pressione che viaggia verso il basso. Questi due punti di pressione alla fine si scontreranno da qualche parte lungo la orta e produrranno uno schema di interferenza mettendo il corpo in uno stato simile al sonno. La tecnica Get Away raggiunge lo stesso obiettivo della meditazione in quanto pone il corpo in uno stato così profondamente rilassato che l'eco della biforcazione svanisce lentamente mentre il cuore diminuisce la forza e la frequenza con cui spinge il sangue nella orta. Il risultato è un campione sonoro regolare e ritmico a onda sinusoidale che eccheggia in tutto il corpo e sale fino alla testa con una risonanza sostenuta. L'ampiezza di questo andamento sinusoidale, misurata con uno strumento sensibile di tipo sismografo, è circa tre volte la media del volume sonoro prodotto dal cuore quando funziona normalmente. 9. Stimolazione cerebrale. Il modello biomedico di Benthoff mostra che questa risonanza è di notevole importanza poiché viene trasmessa direttamente e ha un impatto sul cervello. Viene generato un impulso elettromagnetico che stimola il cervello ad aumentare l'ampiezza e la frequenza dell'emissione delle onde cerebrali. Inoltre il cervello è contenuto in una membrana stretta che è ammortizzata da un sottile strato di liquido situato tra essa e il cranio. Quando la risonanza coerente prodotta dal cuore umano in uno stato di profondo rilassamento raggiunge lo strato fluido che circonda il cervello, stabilisce uno schema ritmico in cui il cervello si muove su e giù di circa 0,005-0,010 mm in uno schema continuo. Il carattere autorinforzante del comportamento risonante spiega la capacità del corpo di sostenere questo movimento nonostante il livello minimo di energia coinvolto. In questo modo l'intero corpo in base al proprio micromovimento funziona come un sistema vibrazionale sintonizzato che trasferisce energia in un intervallo tra 6,8 e 7,5 Hz nella cavità ionosferica terrestre che a sua volta risuona circa 7-7,5 Hz. Di questo processo Bentov afferma ciò sta accadendo a una lunghezza d'onda molto lunga di circa 40.000 km. Una lunghezza d'onda così lunga non conosce ostacoli e la sua forza non si attenua su grandi distanze. Naturalmente attraverserà qualsiasi cosa. Metallo, cemento, acqua e campi che compongono il nostro corpo. È il mezzo ideale per trasmettere un segnale telepatico. Di conseguenza il processo Getaway è progettato per indurre piuttosto rapidamente uno stato di profonda calma all'interno del sistema nervoso e per abbassare significativamente la pressione sanguigna per far sì che il sistema circolatorio, lo scheletro e tutti gli altri sistemi di organi fisici inizino a vibrare in modo coerente a circa 7-7,5 cicli per secondo. La risonanza risultante crea un'onda sonora regolare e ripetitiva che si propaga in consonanza con il campo elettrostatico della Terra. Il documento prosegue con i punti 10 coinvolgimento energetico, 11 coscienza ed energia, 12 ologrammi. L'energia crea, immagazzina e recupera significato nell'universo proiettandosi o espandendosi a determinate frequenze in una modalità tridimensionale che crea uno schema vivente chiamato ologramma. Gli ologrammi sono in grado di codificare così tanti dettagli che, ad esempio, è possibile prendere una proiezione olografica di un bicchiere d'acqua di palude e osservarlo sotto ingrandimento per vedere piccoli organismi non visibili ad occhio nudo quando si esamina il bicchiere d'acqua stesso. Come spiega il biologo Leal Watson, il tipo di luce più puro a nostra disposizione è quello prodotto da un laser che emette un raggio in cui tutte le onde sono di una frequenza, come quelle prodotte da un sassolino ideale in uno stagno perfetto. Quando due raggi laser si toccano, producono uno schema di interferenza di increspature chiare e scure che può essere registrato su una lastra fotografica e se uno dei raggi, invece di provenire direttamente dal laser, viene riflesso prima da un oggetto come un volto umano, il risultato del modello sarà davvero molto complesso, ma può ancora essere registrato. Il record sarà un ologramma della faccia. 13. La parte codifica il tutto. Un'altra caratteristica di un ologramma è la sua efficienza. Miliardi di bit di informazioni possono essere archiviati in uno spazio minuscolo. Lo schema della fotografia olografica è memorizzato ovunque sulla lastra. 14. La matrice della coscienza. È in sé e per sé un gigantesco ologramma di incredibile complessità. Secondo le teorie di Karl Pribram, neuroscientiato alla Standard University, e David Bohm, fisico dell'Università di Londra, la mente umana è anche un ologramma che si sintonizza con l'ologramma universale attraverso lo scambio di energia, deducendo così il significato e raggiungendo lo stato che chiamiamo coscienza. Per quanto riguarda gli stati di coscienza espansa o alterata come quelli utilizzati da Gateway, il processo opera nel modo seguente. Poiché l'energia passa attraverso vari aspetti nell'ologramma universale ed è percepita dai campi elettrostatici che compongono la mente umana, le immagini olografiche trasmesse vengono proiettate su quei campi elettrostatici della mente e vengono percepite o comprese nella misura in cui il campo elettrostatico sta operando ad una frequenza e un'ampiezza che possono armonizzarsi e quindi leggere il modello d'onda del vettore di energia che lo attraversa. I cambiamenti nella frequenza e nell'ampiezza del campo elettrostatico che comprende la mente umana determinano la configurazione e quindi il carattere della matrice energetica olografica che la mente proietta per intercettare il significato direttamente dalle trasmissioni olografiche dell'universo. Quindi per dare un senso a ciò che l'immagine olografica le sta dicendo la mente procede a confrontare l'immagine appena ricevuta con se stessa. Nello specifico lo fa confrontando l'immagine ricevuta con quella parte del proprio ologramma che costituisce la memoria. Registrando differenze nella forma geometrica e nella frequenza dell'energia la coscienza percepisce. Vedi allegato due pagina successiva. Come afferma lo psicologo Kate Floyd, contrariamente a quanto tutti sanno potrebbe non essere il cervello a produrre coscienza ma piuttosto la coscienza che crea l'aspetto del cervello. 15. Cervello in fase. Il processo di coscienza è più facilmente immaginabile se immaginiamo l'input olografico con un sistema di griglia tridimensionale sovrapposto in modo tale che tutti i modelli energetici contenuti all'interno possano essere descritti in termini di geometria tridimensionale usando la matematica per ridurre i dati alla forma bidimensionale. Benthoff afferma che gli scienziati sospettano che la mente umana operi su un semplice sistema binario. Vai? No. Vai? Come fanno tutti i computer digitali. Le nostre menti operano allo stesso modo, percependo solo per confronto. Benthoff afferma la proposizione in questo modo. La nostra intera realtà è costruita facendo costantemente tali confronti. Ogni volta che percepiamo qualcosa, percepiamo sempre solo differenze. Negli stati di coscienza espansa l'emisfero destro del cervello umano nella sua modalità di funzionamento olistica, non lineare e non verbale funge da matrice primaria o recettore per questo input olografico. Mentre operando in fase o coerenza con il cervello destro, l'emisfero sinistro fornisce la matrice secondaria attraverso il suo binario, computer, come metodo di funzionamento per schermare ulteriormente i dati per confronto e ridurli a una forma discreta e bidimensionale. 16. Valutazione. Come certe strane scoperte della fisica quantistica, il riorientamento radicale di questa teoria dà improvvisamente un senso ai detti paradossali dei mistici nel corso dei secoli. 17. Autocognizione. Per semplificare il nostro schema del processo mediante il quale la mente raggiunge ed esercita la coscienza, dobbiamo anche descrivere il meccanismo che spiega l'aspetto del pensiero umano che lo differenzia dalla coscienza delle piante o degli animali, cioè l'autocognizione. Gli esseri umani non solo sanno, ma sanno di sapere. 18. Dimensioni spazio-tempo. 19. Dimensioni intermedie. 20. Particelle subatomiche. 21. Dimensioni nel mezzo. 22. Stato speciale. Esperienza extracorporea. Sebbene la coscienza umana possa, con sufficiente pratica, andare oltre la dimensione del tempo-spazio e interfacciarsi con altri sistemi energetici in altre dimensioni, l'intero processo è notevolmente potenziato se quella coscienza può essere distaccata in larga misura dal corpo fisico prima che venga tentata tale interfaccia. Una volta che un individuo diventa esperto nella tecnica del movimento fuori dal corpo e poi raggiunge il punto in cui è in grado di evadere dallo spazio-tempo mentre è fuori dal suo corpo, ottiene il vantaggio di scattare parte della sua coscienza potenziata partendo da una base situata molto vicino alle dimensioni con cui desidera comunicare. In altre parole, poiché parte da un punto molto più in alto, per usare un'analogia del contesto spazio-temporale, quella parte della sua coscienza coinvolta nel fare clic avrà molto più tempo per interagire in dimensioni al di là dello spazio-tempo, perché è necessario meno tempo per attraversare gli strati intermedi. Inoltre, una volta che l'individuo è in grado di proiettare la sua coscienza oltre il tempo-spazio, quella coscienza tenderebbe logicamente a trascinare la sua uscita in frequenza con il nuovo ambiente energetico a cui è esposta, aumentando così notevolmente la misura in cui la coscienza alterata dell'individuo può essere ulteriormente modificata per ottenere un punto di messa a fuoco molto più elevato e uno schema oscillante molto raffinato. Di conseguenza dovrebbe derivare un processo di autorafforzamento per cui quanto più la coscienza si trova nello stato extracorporea può essere proiettata oltre la dimensione spazio-temporale, tanto più il suo livello di produzione di energia migliorerebbe, promuovendo così il potenziale di quiete ulteriore del viaggio. La conclusione provvisoria da trarre è che lo stato fuori del corpo può essere considerato un modo estremamente efficace per accelerare il processo di accrescimento della coscienza e di interfacciarsi con le dimensioni al di là del tempo-spazio. Se il praticante della tecnica del Getaway ha la possibilità di concentrarsi sul raggiungimento e lo sfruttamento dell'esperienza extracorporea invece di concentrare tutti i suoi sforzi sull'espansione della propria coscienza esclusivamente da una base fisica, il primo sembrerebbe promettere molto più velocemente questi successi. 23. Assoluto nella prospettiva. Abbiamo notato che le nostre menti costituiscono campi energetici che interagiscono con vari aspetti di questo ologramma per dedurre informazioni che alla fine vengono elaborate attraverso l'emisfero sinistro del nostro cervello per ridurle ad una forma che impieghiamo per il processo che chiamiamo pensiero. Abbiamo sottinteso che questo ologramma è l'incarnazione finita in forma di energia attiva della coscienza infinita dell'assoluto. 24. Dal Big Bang a Taurus. Quell'ologramma è spesso chiamato Taurus perché si pensa che abbia la forma complessiva di un'immensa spirale autonoma. 25. Il nostro posto nel tempo. 26. Qualità della coscienza. 27. Coscienza in prospettiva. 28. Metodo Getaway. 29. L'emisync introdotta. Una volta esposto per la prima volta alle frequenze sonore emisync, il partecipante è incoraggiato a concentrarsi e sviluppare una percezione e un apprezzamento per quei sentimenti che accompagnano la sincronizzazione delle onde cerebrali che ne risultano. Segue la tecnica del rilassamento fisico progressivo e sistematico, mentre le frequenze emisync vengono ampliate per includere ulteriori forme di rumore bianco e rosa, progettate per mettere il corpo fisico alla soglia virtuale del sonno e per calmare l'emisfero sinistro della mente mentre si eleva nell'emisfero destro a uno stato di maggiore attenzione. Una volta ottenuto tutto ciò, il partecipante è invitato a prevedere la creazione di un palloncino energetico composto da un flusso di energia che inizia al centro della sommità della testa e si estende in tutte le direzioni fino ai piedi. L'energia coinvolta in questo flusso procede quindi verso l'alto attraverso il corpo e torna di nuovo nello schema del palloncino, il palloncino energetico, che stabilisce uno schema che ricorda molto l'uovo cosmico discusso in precedenza. Non solo migliora il flusso di energia corporea e incoraggia i primi risultati in uno stato risonante adeguato, ma è anche progettato per fornire protezione contro entità coscienti che possiedono livelli di energia inferiori che il partecipante potrebbe incontrare nel caso in cui raggiunga uno stato fuori dal corpo. Serve a scopo precauzionale nell'improbabile eventualità che la prima esperienza extracorporea del partecipante comporti una proiezione diretta al di fuori del campo terrestre. 30. Tecniche avanzate. Riguardano il problem solving, la modellazione, la respirazione colorata, lo strumento di energia barra, la veduta remota, la mappa del corpo vivente, il viaggio nel passato, il futuro, il movimento fuori dal corpo. 32. Il ruolo del sonno REM. Il sonno REM è il livello più profondo possibile del sonno ordinario e comporta il completo disimpegno delle funzioni della corteccia motoria del corpo dal collo in giù e la quasi completa soppressione della coscienza nell'emisfero sinistro del cervello. L'effetto di ciò è quello di mettere il corpo in uno stato di completa immobilità per quanto riguarda la struttura muscolare scheletrica, favorendo così ulteriormente lo stato di riposo profondo necessario per eliminare l'eco della biforcazione. 33. Potenziale di raccolta di informazioni. 34. Considerazioni sul sistema di credenze. Nel 1967 Alessandra David Neal e Lama Yongden scrissero un libro intitolato Secret Oral Teachings in Tibetan Buddhist Sects, da cui è tratta la seguente citazione. Il mondo tangibile è movimento, dicono i maestri, ma non una collezione di oggetti in movimento, ma il movimento stesso. Non ci sono oggetti in movimento, è il movimento che compone gli oggetti che ci appaiono, non sono altro che movimento. Questo movimento è una successione continua e infinitamente rapida di lampi di energia, in tibetano tsal o shog. Tutti gli oggetti percepibili dai nostri sensi, tutti i fenomeni di qualunque genere e qualunque aspetto possano assumere, sono costituiti da una rapida successione di eventi istantanei. La classica descrizione dell'ologramma universale si trova in un sutra hindu che dice Nel paradiso di Indra si dice che ci sia una rete di perle così disposte che se ne guardi una vedi tutte le altre riflesse in essa. Ho menzionato questa citazione perché mostra che il concetto di universo, che almeno alcuni fisici stanno arrivando ad accettare, è identico nei suoi aspetti essenziali a quello noto all'elite colta in civiltà e culture selezionate di alto livello nel mondo antico. Il concetto di uovo cosmico, ad esempio, è ben noto agli studiosi che hanno familiarità con gli antichi scritti delle religioni orientali. Né le teorie presentate in questo articolo sono in contrasto con l'arguzia dei principi essenziali della corrente di pensiero giudeo-cristiana, il concetto di realtà visibile, cioè il mondo creato, come emanazione di una divinità onnipotente e onnisciente che è completamente inconoscibile dal suo stato primario di essere. L'assoluto, a riposo nell'infinito, è un concetto uscito dalla filosofia mistica ebraica. Anche il concetto cristiano della Trinità traspare attraverso la descrizione dell'assoluto presentato in questo lavoro. La descrizione dell'energia totalmente a riposo nell'infinito si adatta al concetto metafisico cristiano del padre, mentre l'infinita autocoscienza che risiede in quell'energia che fornisce la forza motrice della volontà per mettere in moto una parte di quell'energia per creare la realtà corrisponde al figlio. Questo perché per raggiungere l'autocoscienza, la coscienza dell'assoluto, deve proiettare un ologramma di se stessa e poi percepirlo. Quell'ologramma è un'immagine speculare dell'assoluto nell'infinito, esiste ancora al di fuori del tempo e dello spazio, ma è ad un passo dall'assoluto ed è l'agente effettivo di tutta la creazione, tutta la realtà. E l'eterno pensiero o concetto di sé che risulta da questa autocoscienza serve al... Eh, accidenti, ma qui manca una pagina. Osservate, qui si passa dalla pagina 24 alla pagina 26, manca la pagina 25. Non hanno desecretato l'intero documento, mancano i punti 35 e 36. Si passa al punto 37, aspetto motivazionale è il punto 38, conclusione. A. Si inizia utilizzando i nastri Getaway Hemisync per ottenere una maggiore concentrazione del cervello e per indurre la sincronizzazione dell'emisfero. B. Quindi aggiungere forti frequenze di sonno REM per indurre l'acquiescenza del cervello sinistro e un profondo rilassamento fisico. C. Fornire suggestioni ipnotiche progettate per consentire ad un individuo di indurre uno stato autoipnotico profondo a volontà. D. Usa la suggestione autoipnotica per raggiungere un focus di concentrazione e motivazione molto cresciuto nel progredire rapidamente attraverso gli esercizi focus 12. E. Quindi ripetere i passaggi A e B dopo l'uso della suggestione autoipnotica dove si verificherà un movimento extracorporale che verrà ricordato. F. Ripetere il passaggio E per ottenere facilità nell'ottenere lo stato extracorporale sotto controllo cosciente. Alterare la suggestione ipnotica per sottolineare la capacità di controllare consapevolmente i movimenti extracorpori e mantenerli anche dopo la fine dello stato di sonno REM. G. Approccio focus 15 e 21. Obiettivi. Fuggire dallo spazio-tempo e interagire all'interno di nuove dimensioni dalla prospettiva fuori dal corpo. H. Utilizzare l'approccio multifocale per risolvere il problema della distorsione nei viaggi di raccolta di informazioni terrestri. Questo approccio prevede l'uso di tre individui nello stato extracorporale. Uno che osserva l'oggetto bersaglio qui, nello spazio-tempo. Uno guardandolo al focus 15 mentre scivola nell'immediato passato. E uno che lo guarda al focus 21 mentre scivola dall'immediato futuro. Fai un debriefing, letteralmente traducibile come andare a rapporto al termine di una missione, di tutti e tre e confronta i dati raccolti dai tre punti di vista. Se si fa attenzione a garantire che tutti e tre escano dal corpo insieme nello stesso ambiente, i loro sistemi energetici di coscienza dovrebbero risuonare in oscillazione simpatica. Possono sintonizzarsi sullo stesso bersaglio su piani, dimensioni diversi con maggiore efficacia. I incoraggiare il perseguimento della piena conoscenza di sé da parte di tutti gli individui coinvolti nei precedenti esperimenti per migliorare l'obiettività nell'osservazione e nel pensiero fuori dal corpo e per rimuovere i blocchi energetici personali che possono ritardare un rapido progresso. J sii preparato intellettualmente a reagire a possibili incontri con forme di energie intelligenti e non corporali quando i confini spazio-temporali vengono superati. K organizzare che gruppi di persone nello stato focus 12 uniscano la loro coscienza alterata per costruire schemi olografici attorno alle aree sensibili per respingere possibili presenze extracorporee e indesiderate. L incoraggiare i partecipanti al getaway più avanzati a costruire modelli olografici di successo e progressi rapidi per i colleghi esperti e aiutarli a progredire attraverso il sistema del getaway. Se questi esperimenti saranno portati a termine è auspicabile che troveremo veramente una porta d'accesso al getaway e al regno dell'applicazione pratica per l'intero sistema di tecniche che lo compongono. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale youtube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in auto carica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.